signori eccoci con una seconda puntata del fantacalcio in questo caso del bar dei tifosi channel voi lo sapete che io faccio quest'anno un doppio fantacalcio dopo tipo trent'anni di assenza ovviamente e si vede e si vede perché poi vi farò vedere tra poco quello che è successo ovviamente eh prima ovviamente di andare a vedere il discorso fantacalcio mi raccomando lasciate sempre like mi piace iscrivetevi al canale mi raccomando è molto importante soprattutto per portare avanti questo tipo di format perché ovviamente eh sono delle di format extra che mi facciamo proprio per incentivarvi quindi mi raccomando lasciate tanti like sostenite sostenite e sostenite altrimenti la regia viene e chiude tutto allora eh io a questo punto chiamo proprio la regia eh e gli chiedo come sempre della condivisione del ovviamente della della doppia in modo tale che mi passano anche in questo caso l'app di leghe FC se la se me lo passate un attimo ecco ah grazie ecco qua grazie alla regia ecco qua perfetto allora come vedete questa la conosciamo tutti no? Ormai questa è l'app che io uso per il fantacalcio leghe FC si chiama o è leghe FC come preferite e con la nostra bella maglia del Napoli in questo caso andiamo appunto a recuperare il fantacalcio del bar dei tifosi che già vedete nella ovviamente nella eh prima giornata che facevamo io eh giocavo contro Nico e intanto salutiamo tutti gli amici del bar mi raccomando andate pure sulla canale del bar dei tifosi perché io faccio live anche lì eh parlo ovviamente spesso del Napoli ma parliamo anche di di calcio in generale quindi mi raccomando andateci a fare un salto questa è la bella maglia guardate quanto è bella andiamo avanti allora come vedete io ora porto quarta posizione perché eh in questo fantacalcio qua siamo tipo cinque persone siamo diciamo un numero abbastanza eh esiguo basso e di fatti ho già la prossima per esempio se ricordo bene la salto perché essendo dispari ovviamente non ci sono sempre gli accoppiamenti nella prima partita i miei punti vedete sono stati questi settanta punto cinque io giocavo contro Nico che appunto salutiamo e eh il risultato finale è stato di uno a due per lui ovviamente a favore suo io ho fatto settanta punto cinque gli ho fatto settantasei punto cinque andiamo un attimo a vedere ovviamente nel dettaglio ecco qua allora io in porta avevo messo musso ma giustamente c'era carne secchi anche se alla fine diciamo eh poco diciamo poco avrebbe cambiato perché poi eh comunque eh o anche anzi addirittura io avrei potuto mettere Sommer io avrei potuto mettere Sommer ecco poi pensandoci dopo io avrei potuto mettere Sommer però il discorso sapete perché non mi si Sommer perché giocando contro il Milan io non mi aspetto infatti lo dissi pure in puntata non mi aspettavo vedete perché mi piace poi partecipare al fantacalcio anche se non lo facevo da da secoli perché poi io do l'approfondimento anche sulla parte sulle partite perché io non ho messo i giocatori eh perché io mi aspettavo tutto altro dal Milan tra l'altro Sommer comunque un gollo l'ha preso però eh sicuramente avuto io dopo andiamo a vedere il punto che ha avuto so ecco avuto sei avrebbe avuto cinque però sicuramente sarebbe stato meglio rispetto ad un niente eh e quindi poi non lo so se come funziona il fantacalcio ripeto io non gioco da rapita può darsi pure che poi magari con l'assenza di musso eh avrebbe saltato carne secchia oppure sarebbe salto da su questo non lo so le dinamiche dell'applicazione non le conosco quindi vi dico la verità può darsi pure che mi è passato questo eh vi dico tutto live proprio perché ripeto io non partecipo ad una cosa del genere da trent'anni poi dall'altra parte Nico aveva Magnan che si è beccato cinque palloni lo so bene perché poi io ce l'ho nel fantacalcio dall'altra parte Magnan si è beccato cinque palloni e va bene però ha avuto sei con voto purtroppo uno ovviamente Bosch eh ha beccato sei in generale però con l'ammunizione si è beccato cinque e mezzo dall'altra parte lui aveva Danilo che aveva sei ed è rimasto sei. Scalvini come Marusic entrambi hanno fatto cinque io su Scalvini puntavo molto di più ma sapete che l'Atalanta ha perso con la Fiorentina ovviamente qua c'è già una differenza perché vedi di Lorenzo purtroppo è qua purtroppo gioca il mio Napoli perché io contavo molto sul sul Napoli in generale eh e dato che le mie squadre quelle che ho fatto sono fondate quasi solo sui giocatori del Napoli a parte qualcuno la la diciamo la maggior parte i giocatori sono giocatori del Napoli quindi se i giocatori del Napoli fanno male eh praticamente anche il il fantacalcio ma non ho schifo eh quindi di Lorenzo ha preso sei resta sei dall'altra parte ovviamente Schurz soltanto per l'ammunizione scala mezzo voto quindi da sette a sei e mezzo ma comunque è un buon voto questo qua dall'altra parte discorso che facevo prima avevo lo Botka però ovviamente Napoli cinque e mezzo resta cinque e mezzo dall'altra parte Nico aveva Pulisic che da cinque resta cinque perché il Milan ha preso l'imbarcata io poi avevo Zielischi che ha avuto sei e mezzo con l'assist per Politano diventa sette e mezzo e questo finalmente è un buon voto anche se ripeto le mie aspettative sul Napoli in generale erano tutt'altre ehm Nico aveva Loftucic ovviamente che col discorso del Milan paradossalmente ha avuto un po' la stessa situazione mia dall'altra parte del Napoli tranne il discorso Zielischi e ha avuto cinque e mezzo e resta cinque e mezzo perché poi non c'è stato né altro ammunizione altro Zambo Anghissa ecco qua lo stesso caso cinque ha avuto cinque ha avuto bassissimo per Anghissa ma anche lo Botka ha avuto bassissimo rispetto all'anno scorso dall'altra parte però ecco la differenza c'ha la Noglu ovviamente casa Inter eh con gol con rigore e e ammunizione parte sette diventa otto e mezzo che poteva essere nove fondamentalmente scendendo abbiamo aspettate un poco abbiamo ecco qua mettiamo meglio abbiamo Samarzic vedete sei ehm purtroppo non è non ha fatto niente io sperava meno in un golletto di Samarzic con Ludinise però niente dall'altra parte lui aveva Kamada che sei e ha fatto sei ovviamente è rimasto sei eh nonostante la Lazio abbia perso tre a uno con la Juve sabato no avevamo fatto l'approfondimento alle ore quindici poi avanti io avevo Cavara che se fosse stato l'anno scorso avrebbe preso sempre sette otto e invece ovviamente cinque e mezzo quindi voto bassissimo per Cavara dall'altra parte proprio paradossalmente era appunto Genoa Napoli Retechi ha fatto il secondo gol dopo Bani praticamente Bani ha fatto il primo gol Retechi ha fatto il secondo quindi sette più il gol con l'ammunizione diventa nove e mezzo ed è già qua ti inizia a cambiare la partita il parziale diciamo della dei voti del fantacalcio in questo caso poi io mi trovo Pinamonti e meno male che l'ho preso perché in questo fantacalcio lo dissi purtroppo non sono riuscito a prendere dei giocatori di una punta di rilievo a parte Cavara Schella che è un'ala però eh mi sono trovato con il tridente del Sassuolo fondamentalmente infatti l'Oriente poi l'ho messo l'ho messo in panca anche però l'Oriente non sarebbe cambiato nulla ehm e Pinamonti invece sta facendo bene ultimamente infatti sette e mezzo diventa tredici e mezzo però poi qua il problema qual è? Che giustamente anche Nico dall'altra parte ha messo Vlaovic e Vlaovic ovviamente ha fatto i due gol più l'ammunizione e praticamente siamo lo stesso lo stesso voto perché eh prende otto con il discorso e tutto quanto fa tredici e mezzo anche lui quindi entrambi abbiamo fatto tredici e mezzo l'altra differenza che non è da poco è che io avevo messo Berardi Berardi io l'ho messo perché ragazzi a parte non c'erano altri attaccanti più interessanti ma ehm ha preso un sei che resta sei io speravi un qualche rigorello o qualche cosa così perché poi va sempre Berardi a battere il rigore non c'è stato nulla dall'altra parte invece Lukaku la Roma ha vinto sette a zero contro l'Empoli e quindi il buon Lukaku non solo avrebbe preso comunque un voto alto quindi sette però poi ha anche segnato e quindi diventa dieci tondo questo ecco si è risolto qua il discorso in fase offensiva perché Kvara e Berardi purtroppo hanno fatto Kvara zero quasi Berardi la sufficienza e quindi qui si è risolta la situazione per quanto riguarda le eh le due panchine ovviamente eh ci dicono appunto questo io avevo messo appunto Sommer sei però con gol di trentacinque poi ovviamente a lui sono eh assenti gli altri ma perché sono stati già convalidati quelli che erano ovviamente in campo Dodoya preso sei Ien sei e mezzo Uea sei eh Nico Gonzales qua per l'assist fa sette e mezzo che è un ottimo voto in zona cinque basta io dall'altra parte so avevo Sommer ovviamente poi c'era Calabria cinque e mezzo Bastoni sei quindi seppur avessi messo questi non cambiava niente Felipe Anderson cinque e mezzo Costi c'è sei voti comunque bassi eh Beltran sei e mezzo l'Oriente come vi dicevo prima seppur avessi messo l'Oriente al posto ovviamente eh di eh di Kvara sarebbe cambiato niente praticamente Mario Rui cinque e mezzo per il fatto del Napoli De Frai sei cambiava poco l'unico che poteva cambiare era Politano perché Politano ha giocato bene peccato che forse questa è una cosa che devo valutare meglio per la prossima volta perché vedete lo mette come centrocampista questa cosa non l'ho capita sinceramente del mettere Politano valutato come centrocampista non attaccando perché Politano è attaccante non è un centrocampista però Fantacalcio lo lo classifica come centrocampista per il futuro valuterò meglio questo discorso di Politano perché Politano ragazzi serve come vedete perché poi ha segnato sette poi diventa dieci e questo può cambiarti o aiutarti comunque nei voti finali Simeone ovviamente c'era ma non ha giocato quindi niente di fatto quindi eh risultato finale eh sette e mezzo per me contro i settantasei punto cinque appunto di Nico e quindi questa è la è la prima diciamo giornata di questo di questo Fantacalcio ovviamente io purtroppo la seconda giornata facciamo vedere la classifica a questo punto ehm ecco io la prossima giornata non ci sto vedete riposo sono di riposo perché siamo dispari io tornerò direttamente l'altra settimana dove giocherò contro Michelangelo in questo caso eh andiamo a vedere la classifica di questa prima giornata ovviamente eh ci sta ehm già Piox che riposava quindi non ha punti poi ci sto io che ovviamente ho perso qua a quarta posizione e poi ovviamente forse mi pare vabbè ora non ricordo quali sono collegati a lei a vari club vabbè Power Rangers e Riccardo mi pare che il Doniano è proprio Michelangelo settantadue e mezzo settantacinque settantasei punto cinque questa è la classifica di noi cinque quindi la prossima riposo come detto e quindi poi con me ci rivediamo l'altra settimana detto questo se la regia mi fa tornare di nuovo là ecco qua perfetto allora ragazzi per oggi questo è tutto questa era la ovviamente la seconda puntata del fantacalcio del del bar dei tifosi lasciate like iscrivetevi ovviamente al canale per qualsiasi cosa scriveteci qua sotto nelle mail e noi ovviamente ci vediamo con una prossima puntata ciao ragazzi